mister del prato è successo di tutto innanzitutto è un punto fondamentale che contro una grande che ha mostrato di essere una grande ma la Virtus è fatta una gran bella figura sì è stata sicuramente una bella partita emozionante con diverse occasioni da gol volevamo fare punti anche con le squadre che sono davanti perché non le abbiamo ancora ottenuti e oggi c'è un po' di rammarico perché stava vincendo 2-0 però insomma era all'inizio della partita su un errore è stata riaperta poi secondo me commesso un altro errore su due pari perché prima del calcio d'angolo abbiamo preso un calcio d'angolo il calcio d'angolo a favore nostro abbiamo preso un contropiede dove abbiamo sbagliato però insomma la prestazione è stata fatta bene c'è il rammarico anche perché secondo me c'era un rigore nettissimo su Bertoli sono 5 punti alla fine e peccato perché perché dava l'impressione della partita che potessero vincere loro ma che lo potessimo vincere anche noi però portiamo a casa un punto importante che fa classifica volevamo dare continuità alla vittoria di domenica oggi non è una partita facile per niente però i ragazzi hanno fatto una buona buona una buona gara ha saputo leggerla bene dall'inizio con con un diverso assetto appunto per poi giocare anche di ripartenza bene anche i due davanti insieme bertoli ha avuto stoni che gli ha girato attorno anche davanti hanno fatto bene hanno fatto una buona gara ma credo un po' tutti insomma sono due partite che giochiamo con un sistema diverso a volte siamo un po più coperti però abbiamo anche la qualità per ripartire perché abbiamo esterni di gamba giocatori in mezzo al campo che secondo me che possono accompagnare l'azione per cui è un risultato come dicevo prima importante abbiamo speso tanto perché i ragazzi hanno speso tanto perché è stata una partita molto giocata a viso aperto anche se noi poi insomma siamo stati costretti qualche volta a difenderci perché perché loro hanno tanta qualità una squadra che fa tantissimi gol però però risultato importante e siamo contenti insomma l'ultimo arrivato è stato migliore in campo personalmente bel acquisto si si ha fatto una buona una buona gara è arrivato da poco domenica è stato in panchina non utilizzato per oggi ha fatto veramente una buona gara un giocatore che che ci darà una mano sicuramente perché fisicità buona qualità tempi di inserimento insomma se riconoscere ancora un po con la squadra perché è arrivato da pochissimi giorni però un giocatore che che anche un po di prestanza che ci serve perché non siamo altissimi per cui dobbiamo dobbiamo prepararci bene perché abbiamo poco tempo per preparare la partita con la clevense poi ci sarà la sosta per cui è uno sconto diretto una partita molto molto importante vogliamo dare continuità risultati hai preso un cartellino quindi già questo è un evento quindi vuol dire che per arrivare a prendere cartellino giallo te vuol dire che è successo qualcosa no beh quest'anno ne ho presi forse due sono diciamo un po più tranquillo altri anni qualche ammunizione in più qualche espulsione insomma io ho visto il rigore nettissimo e non ho capito come abbiamo potuto l'arbitro non darlo sinceramente però insomma la gestione della gestione una partita non è stata al massimo no quello no perché comunque ha iniziato a fischiare pochissimo tanti contrasti tanti falli e la partita è diventata un po spigolosa a volte le partite vengono indirizzate nel senso che bisogna gestirle bene noi i tecnici devono gestire bene le squadre gli abiti dove gestire nella partita perché poi su determinati errori o se concedi qualcosa in più poi la partita diventa spigolosa diventa brutta non è stata una brutta partita però è stata secondo me in alcuni episodi un po condizionata perché ci sono stati degli errori di valutazione capita a noi da fastidio perché purtroppo soprattutto l'occasione del rigore era alla fine della gara poteva darci la vittoria però insomma dobbiamo dobbiamo tenere anche in considerazione anche questo e si va avanti bravo bravissimo ceruti a grazie e la ripresa go partita mai morta è partita mai morta inizialmente ma non è un po' di risultato pareccia è lo spazio 3 contro 2 careccia careccia per bertoli ce l'ha sul attenzione in mezzo a 2 tiro bravo bravissimo Nevelloli pronto a far partire careccia grandissima grandissimo un batte e ribatte ragazzi rimette dentro attenzione parata di pelliccioli che a a